ciao a tutti e ben ritrovati allora oggi ci ritroviamo a commentare una giornata perfetta della nostra super youtuber un blog dal titolo che non lascia nessun margine d'errore si tratta di ricordi indelebili ma come nostro solito procediamo con ordine e cioè andando a citare innanzitutto il titolo del blog che andiamo a commentare oggi la giornata perfetta ricordi indelebili roma vlog ma cazzo però una virgola pure buttata a caso ogni tanto ce la vogliamo mettere e dunque il video inizia con chiara distesa sul divano di casa brunello ha indosso una giacchettina di harry potter stile college che le ha regalato proprio dennis in occasione del natale uno dei tantissimi regali ricevuti da dennis ma per adesso accantoniamo quelli che sono stati i regali da dennis per cui ci sarà un video a parte e andiamo a vedere quali sono i loro programmi per oggi per i programmi di oggi c'è un po di indecisione perché comunque lei è anche molto presa dall'editare tutti i vlog video che stanno facendo da roma città eterna e quindi non si sa bene per il da farsi poi ci becchiamo un brevissimo home tour di casa brunello che finisce quasi subito su un enorme specchio dove lei si riprende tipo a mezzo busto dove parla e ci straparla di questa benedetta felpa di harry potter poi passa finalmente il finalmente è ovviamente ironico a quelli che sono i suoi i suoi capelli oddio sembrava l'imitazione di davide venuta perfetta involontariamente però è venuta perfetta e dai capelli passiamo a quelli che sono i jeans che indossa al momento perché a quanto pare le scivolano praticamente via perché è dimagrita tantissimo ora posto sotto lo specchio c'è una sorta di credenza su cui vi sono disposti vari oggetti tra cui peluche candele pupazzi di babbo natale molti di cui sono proprio dei regali fatti da chiara a dennis sempre in occasione del natale mentre sul divano accanto al suo pc rosa con cui sta editando questi meravigliosi vlog ci sono i due gatti di casa brunello tito e trudi che non mi sembrano molto molto felici dell'inquadratura da parte di chiara evitano con accuratezza lo sguardo di chiara anzi cioè si mettono proprio di spalle per la serie non vogliamo che nessuno ci rompa i coglioni sì dicono proprio così perché sono dei gatti romani e tra una chiacchiera e l'altra siamo arrivati finalmente a sera loro stanno guardando un film dal titolo cioè non se lo ricorda al momento ma ce lo dirà più avanti però ci tiene ad esprimere un pensiero in merito a questa serata cioè secondo lei non c'è niente di più bello che guardare un film mentre si mangia la pizza con un'ottima compagnia etto ti compare la compagnia davide con un ciuffo strano che sembra abbia messo su un bigodino sapete quelle pettinature tipo quei bambini degli anni 30 cioè ma che cazzo ha combinato ma torniamo seri o perlomeno proviamoci e ci mostra quella che sarà la scena che consumeranno durante la visione di questo bellissimo film di cui al momento non se ne conosce il titolo nell'ordine tre arancini tre suppli normali tre suppli cascio e pepe e tre pizze e mezza bottiglia di coca cola e beh direi che i presupposti per una bellissima serata ci sono tutti allora praticamente lei è stata tre ore a spiegare la differenza tra le varie portate e davide alla fine della spiegazione chiede ma sono tutti suppli? cioè un mito e lei con molta pazienza gli rispiega praticamente tutto da capo cosa che io ovviamente vi risparmio iniziamo a mangiare suppli e arancini ovviamente la cosa dura effettivamente molto poco perché perché le porzioni sono molto ridotte cioè praticamente un pezzo a testa e la cosa mi lascia anche un po' perplessa perché onestamente non è da loro da una che fa un mukbang che mangia tre panini uno dietro l'altro e si ritiene pure non sazia cioè mi aspettavo qualcosa di meglio ma dimenticavo che abbiamo anche la pizza ora nel caso di Chiara si tratta di una diavola che sarebbe quella con salame piccantissimo come la passione mentre per davide abbiamo una pizza con patatine wustel da cui lei poi tra l'altro durante l'inquadratura gli frega pure qualche patatina mentre per dennis abbiamo una pizza al tonno e cipolle quindi in serata non sono previsti i baci e poi il vlog continua dal giorno dopo dove lei ci mostra l'outfit del giorno e quindi andiamo a vedere cosa ha scelto da indossare per oggi allora un paio di tranquillissimi leggings neri di tipo basico una felpa crop top di colore bianco con sul davanti dei motivi natalizi ed una canotta sottostante perché essendo una maglietta crop top lasciava poi comunque la pancia scoperta e siccome siamo a gennaio non era tanto il caso e adesso che siamo finalmente pronti si esce si va a fare un bel giro e magari passare anche a prendere un bel po' di arancini ora nel frattempo che davide finisce di sbattere il portabagagli dell'auto di dennis lei chiede alla sua utenza così per intrattenere un po' cosa fate di bello siete in vacanza noi ci stiamo divertendo tantissimo cioè a furia di ripeterlo 50 volte a vlog finiremo per crederci anche noi ma prima di tutto si passa in farmacia per effettuare l'ennesimo tampone rapido giusto per sicurezza ecco poi il tampone è effettuato ed ora non resta che attendere pazientemente l'esito che arriva poco dopo ed è negativo e ce lo mostra abbondantemente mostrando il foglietto con tanto di data il suo nome, il cognome, la data di nascita il giorno in cui è stato effettuato cioè praticamente tutto e dopo il dovere e finalmente il piacere passiamo da delizie di Sicilia noi ci becchiamo un'ampia inquadratura di quello che è il bancone pasticceria che è un vero e proprio tripudio del gusto ci sono pasticcini di ogni tipo nel frattempo che lei inquadra tutta questa meraviglia si sente come voce fuori campo forse il titolare, il commesso del negozio, non so bene che chiede a Davide di esibire il green pass e Davide per tutta risposta gli dice no no va bene, allora aspettiamo fuori lei invece, Chiara, che è rimasta all'interno cosa fa? Dà anche un'occhiatina a quello che è il banco gastronomia dove ci sono in bella mostra tantissimi piatti già pronti da consumare al banco oppure da asporto e poi il vlog continua dall'esterno ora io pensavo dall'esterno del negozio delizie di Sicilia e invece lei dice che sono presso Firenze potere del teletrasporto o di un editing fatto un po' così alla cazzo e proprio ora che sono nei pressi di Firenze lei saluta tutti e spera che questo vlog vi abbia tenuto compagnia che vi sia piaciuto iscrivetevi a tutti i loro canali terrestri ed extraterrestri di seguire con affetto e ammirazione quelle che sono le loro live di partecipare attivamente mettendo tanti like che poi ora se non sbaglio appena arrivata a Milano la prima cosa che ha fatto è stata una live buasta che io ancora non ho recuperato e qui qualcuno potrebbe dire beh capirai una live buasta che grande novità ma la cosa curiosa è che dopo aver trasmesso questa live buasta che io non lo so di cosa si è trattato in questa live però dal titolo posso solamente immaginare il solito attacco verso i canali di Scolo gli haters questi infamoni questi pregiudicati e quant'altro la cosa strana è che dopo averla caricata questa live è sparita dal canale dichiara ad Alessandro per poi ricomparire qualche ora dopo non lo so forse modificata non lo so perché altrimenti non avrebbe senso averla tolta e poi rimessa lì pubblica però purtroppo non avendo visto la prima versione caricata quindi non saprei neanche se ha escluso o messo qualcosa o meno se qualcuno di voi invece già l'ha vista e vuole lasciarmi quelle che sono le sue impressioni proprio in merito a questa ennesima live buasta può farlo tranquillamente nei commenti sotto questo meraviglioso vlog cioè non ve lo sto neanche a dire bene e si conclude così questo vlog di questa giornata indimenticabile con dei ricordi indelebili cioè io onestamente la parte dei ricordi indelebili e indimenticabili non l'ho colta se qualcuno l'avesse colta e volesse rendere partecipe anche me in questi momenti indimenticabili che io non sono riuscita a cogliere ne sarei davvero grata bene quindi questo per oggi è tutto io oggi nel pomeriggio un po' di tempo ce l'ho se riesco provo a recuperare l'ultima live buasta dato che l'ha resa di nuovo pubblica ma nel frattempo che accadono tutte queste cose meravigliose a me non resta che augurarvi buona continuazione di giornata e darvi appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto un bacio a tutti da Gossip grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti